Euroregione News La casa delle farfalle di Bordano riapre il giorno di Pasqua dopo aver saltato una stagione. La scorsa stagione le serre di Bordano che da 11 anni portavano un assaggio di foresta in Friuli Venezia Giulia non hanno aperto i battenti per una vicenda che ancora si sta protraendo. Però alla fine ce la facciamo, riusciamo ad aprire questa chicca, questa attività molto importante per il Friuli Venezia Giulia e ne parliamo con Stefano Dal Secco che è presidente della cooperativa Farfalle nella testa che è stata costituita nel dicembre del 2013 per gestire il nuovo corso della casa delle farfalle. Buongiorno. Allora, che cosa ha rappresentato fino allo scorso anno, diciamo, e adesso chiaramente poi rappresenterà ancora e si spera almeno per il Friuli Venezia Giulia questa attività, la casa delle farfalle di Bordano? Allora, la casa delle farfalle di Bordano è stata, nei 11 anni in cui è stata aperta, una delle eccellenze culturali di questa regione. Ha attirato ogni stagione, da marzo-ottobre, tra i 40 e i 50 mila visitatori, proveniente essenzialmente dalla regione ma anche dai paesi confinanti, Austria, Slovenia, dal nord Europa o dal Veneto. Quindi una realtà molto importante per la regione e la più grande casa delle farfalle in Italia, il più grande complesso di sare tropicali, ospitante farfalle e insetti. Quindi, indubbiamente, una delle eccellenze di questa regione. Allora, un anno di stop, abbiamo detto all'inizio, a causa di un cambio gestionale che si è trasformato purtroppo in una querelle abbastanza pesante che tra l'altro non si è ancora conclusa e che poteva anche protrarre la chiusura della casa delle farfalle ben oltre un anno. Così non succederà. No, per fortuna questa vicenda è arrivata in fondo. Quello che interessa a noi, come a tutti i nostri visitatori, a tutti i cittadini della regione, era che questa struttura riaprisse. Ora, l'importante è di riaprire. Noi abbiamo fatto tutti gli sforzi per che questa struttura venisse riaperta nel più breve tempo possibile. Riusciremo ad aprire appunto il giorno di Pasqua e aspettiamo veramente molte persone. Allora, la ripartenza della casa delle farfalle rappresenta, segna anche, un cambio di marcia nel pensiero di fondo che ne animerà le strategie? Indubbiamente sì. Questo è stato anche, diciamo, uno dei motivi, se non il motivo principale che ci ha indotti a progettare e realizzare questa nuova realtà, questa cooperativa che andrà ora a gestire la casa delle farfalle. Il cambio si inquadra in un modo diverso di proporre l'educazione ambientale, la natura, l'educazione della biodiversità. Noi crediamo che tutto questo possa essere gestito in maniera rigorosa e scientifica senza per questo diventare noioso, pedante, eccetera. Quindi insieme lo spettacolo, la grande bellezza della natura e un'attenzione ai temi scientifici ed etici e ecologici. Ecco, non solo farfalle, no? Comunque nella casa delle farfalle perché c'è un mondo da scoprire che rappresenta la maggior massa biologica del pianeta e sarà rappresentata anche in questa casa delle farfalle. Sì, le farfalle sono chiaramente la bandiera di questa struttura però quello che in parte è stata ma soprattutto sarà da ora in avanti è un nozò del mondo piccolo quindi gli insetti, gli invertebrati, questo mondo ancora poco conosciuto tutto sommato però una delle realtà più importanti sul pianeta Terra è una delle ricchezze per tantissimi versi gli insetti sono un mondo spettacolare che non vediamo perché è troppo piccolo uno dei nostri modi di parlare di questa cosa è di renderlo grande mostrare gli insetti più grandi fare da mostra con gigantografie macro per far vedere come sia veramente un universo in questi piccoli animali Allora, Stefano Dal Secco uno dei vostri pallini è quello di lavorare con i giovani e quindi anche con la scuola con il mondo della scuola perché è perfetto per costruire una coscienza collettiva sulla salvaguardia del pianeta una coscienza collettiva sulla salvaguardia perché bisogna partire dai giovani bisogna partire ovviamente dai più giovani anche se poi la scuola non è proprio quella più adatta per far quadrare i conti ad un'iniziativa come questa anche se necessaria Ma diciamo che noi abbiamo questa realtà che deve sostenersi e così via però non necessariamente ogni attività che facciamo viene fatta per un ritorno economico L'educazione alla natura, all'ambiente dei ragazzi ha un senso che va oltre il guadagno immediato per cui c'è anche un progetto etico che non significa che non dobbiamo tener conto del guadagno però ci sono delle voci in cui la casa farfalle guadagna delle altre come i ragazzi, la scuola eccetera in cui può permettersi a nostro parere di andare in pari o leggermente in perdita perché il senso di questo progetto va al di là Allora quindi appunto perché va al di là questo progetto quindi rivolto anche alla scuola ma nello stesso solco si inserisce un'altra visione che voi avete per le strategie per il futuro di questa casa delle farfalle che è quella di porre questa casa delle farfalle come centro di riferimento di quelle organizzazioni che si occupano di ambiente, di ecoturismo, di salvaguardia e anche di ricerca altre due sfide quindi anche come centro di ricerca Sì, indubbiamente ci piace giocare difficile diciamo che essendo probabilmente in regione nella zona il centro più grosso la casa farfalle che si occupa di questi temi riteniamo che questo implichi da parte nostra anche una responsabilità senza nessuna pretesa ma semplicemente proporci metterci a disposizione come punto centrale punto di aggregazione proprio perché è a di fronte una platea più vasta quindi le piccole associazioni le piccole realtà che spesso fanno cose molto meritevoli noi siamo a disposizione per lavorare insieme ospitarli dare visibilità Bene poi c'è un'altra formula che voi intendete recuperare e riproporre che è quella di un certo tipo di gastronomia che è anche cultura tra l'altro la gastronomia è sempre cultura ma comunque in questo caso ancora di più abbinandola al racconto naturalistico perché questa formula ebbe successo Abbiamo avuto nelle ultime stagioni alcuni esempi molto interessanti a nostro parere abbiamo fatto delle serate di cucina africana abbiamo fatto Madagascar poi Asia come ha fatto Malesia queste situazioni queste situazioni hanno avuto un grosso riscontro secondo noi come ormai è abbastanza risaputo il cibo la gastronomia è cultura tanto più nell'anno dell'Expo non possiamo non e noi abbiamo sempre abbinato questa ricerca dei gusti dei sapori al racconto di quei paesi quindi mangiare insieme a raccontare la fauna la flora dei paesi che da cui vengono i cibi per un'esplorazione visiva sensoriale uditiva a molte dimensioni bene e poi c'è un altro progetto un altro progetto che a cui voi tenete e di cui vorrei che lei parlasse è un progetto di turismo naturalistico che prende il nome Danaus o Danaus e questo va a sottolineare ulteriormente come la casa delle farfalle diventi così un un ambiente dinamico e non solamente per dirla tra virgolette un ozono dove andare a vedere degli animali e basta certo ci piacerebbe e stiamo lavorando in questo senso proporre una serie di esperienze a tutto tondo in questo senso stiamo lavorando abbiamo già fatto partire un un'organizzazione che propone viaggi in paesi tropicali che sono i paesi in cui in cui vivono le farfalle che noi che noi mostriamo questi insetti che sono diciamo i paesi dove c'è più ricchezza c'è più diversità quindi foresta pluviale eccetera e abbiamo fondato questo questo brand diciamo che si chiama Danaus che è il nome della latino della farfalla monarca quella che fa queste grandi migrazioni nel continente americano e che proporà dei viaggi appunto in paesi esotici con la particolarità di di andare non tanto nel loggio lussuoso ma fare delle esplorazioni dell'ambiente naturale presso organizzazioni progetti di ricerca di conservazione eccetera accompagnati da 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 laureati molto competenti e quindi che ci portano dentro quel mondo bene Stefano dal secco e siamo giunti alla conclusione non ci resta che fare l'augurio per una ottima attività e una ottima ripresa delle attività per la casa delle farfalle sperando che il pubblico si presenti numeroso indubbiamente sì accetto gli auguri e ci sembra che il pubblico stia rispondendo stiamo ricevendo molti attestati di interesse ci sembra che molte persone stavano aspettando questa questa riapertura e noi siamo pronti a dare loro il meglio che riusciamo a dare Euroregione News